sono un ragazzo carino e sono sex e hai un cellulare fra poco enrico pasquale praticò qui a di pre per il sociale rimanete con noi gentili delle spettatori ben trovati da andrea di pre mi trovo in calabria sono a motta san giovanni e incontro uno dei massivi lo definisco un linguista moderno perché coniuga la tradizione con la contemporaneità con me c'è enrico pasquale praticò ciao enrico ciao piacere allora enrico brevemente puoi presentarti al pubblico del di pre per il sociale io sono enrico pasquale praticò ho 23 anni sono a motta san giovanni e sono qua di pure quello che vuoi enrico senza ancora hanno una ragazza magra sic sex è bello paese ecco diciamo questo enrico sta cercando una ragazza vive in un posto magnifico in un paradiso terrestre perché qui c'è il mare c'è che sono l'olive c'è la tua vigna se la vigna dove esattamente dove si colloca c'è qua sotto una e dopo la monte la sopra ecco è un poco lontano come la vuoi questa ragazza se vuoi dire bionda magra sic sex c'è quindi una ragazza anche come è un poco un po di capelli neri e tutti i maneri che ha i gusti ecco guarda sempre dico anche formosa comunque si è formosa formosa vivi con la tua famiglia qui lavori la vigna ancora imparare la patente ancora non me l'ho presa vuoi prendere la patente giusto per spostarti anche per vado a cattare spisa ecco come la tua giornata tipo cosa fai della giornata gioco con la playstation 3 ho il telefono samsung alas grande neo il telefono usi anche il computer acer e basta ecco come social network quale utilizzi ancora questo non l'ho fatto ancora io cioè via cellulare ti sei iscritto a qualche supra fast book e sono su proz app a ti ecco quello come e perché c'è una sorpresa per voi perché per trovare la ragazza anche ideale a parte che enrico basquale ha un modo suo ma poi non lo puoi capire se non vieni qui in calabria perché questo è un posto e tu sei anche sai che fare molte voci sai che giusto sentito che sai fare i giochi linguistici non mi ricordo ecco comunque sentivo enrico vuoi brevemente cantarci qualcosa è una canzone a madonna d'oluvito e nette la fumare e nette l'ho canito ne cala la fumare vola 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 e non la so tutta continua straordinaria stupendo continua pure ancora questo o un'altra anche no 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 lasciare amore non ti amo no 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 questo ricordando grande canazzo come canazzo di antonio nava allora enrico però c'è voglio dirti questo qui vedo che c'è qui la tua famiglia però il secondo me la patente sarà fondamentale perché così potrai girare tutta l'italia a reggio calabria a roma messina tutti i partiti e quindi ricapitolando allora cerchi la ragazza ripetiamolo ancora una volta magra sexy dopo cotto bionda capelli un poco scuri neri si un poco non ci faresti con questa ragazza direi o fare un cuore o lavorare a campo i figli ma anche a livello sessuale cosa ci farei no ancora niente ok quindi cerchi cioè sarebbe dopo il matrimonio giusto comunque e l'unica l'ultima cosa voglio chiederti è questa beh ora direi lì la questione per gli acquisti vediamo fra poco con enrico pasquale praticò da motta san giovanni fra poco tra poco ora di nuovo in onda enrico pasquale praticò vuole aggiungere qui al di pre per i suoi sali un'altra sua frase voi che facete capito cosa cosa c'è cosa facete a e dove a casa la casa o a scuola in giro a calcio angiro allora intanto e io pregherei alcuni tuoi familiari che vogliono venire qua prego venite un attimo vicino a me allora conosciamo conosciamo il papà di di enrico che si chiama felici felice la nonna anna 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 e la mamma giusto la mamma sì allora grande trasmissione voi sapete che vostro figlio è davvero c'è il certo è secondo me il è un po è un po il moderno massimo troisi proprio giudizio capito è un moderno massimo troisi perché lui riesce a trasformare le voce e quindi io l'ho detto quando avrai la patente potrai girare tutta italia mangiare moltissimi soldi per quello che ti meriti giusto e io dico che è giusto che i soldi vengano qui in calabria in questa famiglia stupenda che ha tirato su un figlio secondo i criteri dell'onestà della correttezza di questi aspetti e che oggi nel suo linguaggio così affabile è così basico e istintivo emergono io vorrei enrico che tu dicessi un'altra frase sì un'altra frase tua e anche un'altra canzone o una poesia qualsiasi cosa non la so tutta comunque stupendo e un'ultima cosa il tuo rapporto con la vigna la vigna è come in dante per te la vigna è il pomodoro favi cipolle patate la dopo c'è tutti i piselli e altri e altri quindi il vino a regina quindi anche se fosse una guerra voi riuscireste a sopravvivere perché vi fate tutto da soli qua sì come domande del pubblico a il tuo piatto preferito qual è maccarroni maccarroni che ha grappa con la maccarroni con la crapa e la carne e la crapa cioè i maccarroni con la crapa ma che non dico la grappa capite la crapa la crapa è quella che mangia la carne però ascolta e volevo chiedere so che tu usi molto comunque anche i mezzi elettronici ormai quindi mi dicevi che utilizzi soprattutto il cellulare il computer e la playstation 3 ma il tuo tipo di cellulare qual è esattamente? il Samsung Galaxy Grande Neo ah che è quello con la cover bianca vi sembra o no? il mio è colore nero ah ho capito ho capito comunque ti consiglio di iscriverti anche a Tumblr si chiama Tumblr ho capito e qual era quell'altro anche importante? ah beh è su Instagram dopo lo stallo e lo scargo e mi scrivo io ti dico solo una cosa Enrico ti meriti sempre più successo e sei fortunato perché è una famiglia stupenda e vivi in un autentico paradiso terrestre grazie grazie ancora Enrico Pasquale praticò grazie grazie a voi piacere e complimenti veramente perché siete riusciti non è facile oggi non è facile oggi mantenere certe caratteristiche di purezza no dai lo dico veramente lo Stato se fosse uno Stato di preista vi finanzierebbe essendo uno Stato di quattro stasera arriva su televisione no questo qua andrà dappertutto questo stasera? poi mi informiamo va su YouTube e dappertutto da televisione tutti i partiti altri canali si tutto ciò che e superuso si si dopo ti farò sapere ecco però mi raccomando Enrico continua con la tua grande verità grazie no che dici no 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 ah si vanno tutti i canali grazie ancora grazie ancora ciao saluto ciao canzone finale ancora l'ultima aspetta vorrei ma mi ricordo una moderna conosci una moderna una che cantano tipo l'883 non so una moderna e questa non la so aspetta ma mi ricordo una una in inglese anche una inglese non lo so una moderna Enrico a la pisella mia mi fima muri ciao a tutti grazie ti saluto grazie 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 cosa stai basticando adesso le fico ah ho capito no il fico la pianta del fico raccogliamo i fichi grazie e poi e poi la pianta del fico a la pianta del fico a la pianta del fico grazie terra gu Grazie a tutti